Sono Francesco, sono il capitano della squadra del Castelluccio, abbiamo perso, sì ma è stata comunque una bella partita. Tu sei un ottimo giocatore perché ti fai le domande e ti fai le risposte, quindi puoi fare veramente carriera, bravissima. Il calcio di vigore me l'ho sbagliato perché il team mi è venuto male e mi è venuto centrale, vabbè abbiamo perso, è stata solo una partita comune. Bravissima, ma come si sono comportati i tuoi compagni? Bene, poi anche perché nei giorni io vado al campetto che vivo nelle palazzine e c'è un piccolo campetto e giochiamo sempre a calcio con i miei amici. Che ruolo giochi? Attaccante prima punta. Accidenti, quindi quanti gol fai in un anno, quanti gol riesci a fare? Almeno 100-200. 100-200 gol, perfetto, ok grazie, grazie.